Perché Pirelli e Motor Valley? Pirelli oggi rappresenta il leader mondiale di pneumatici di alta altissima gamma. Uno su due veicoli prestigio al mondo monta pneumatici Pirelli. La Motor Valley è il tempio dell'automobile di alta altissima gamma, del made in Italy, e quindi il connubio viene facile, viene immediato. In questa edizione abbiamo presentato il nostro percorso, la nostra roadmap di sostenibilità. Il piano è complesso, articolato, è al centro della nostra strategia e in particolare quest'anno abbiamo annunciato il net zero entro il 2040. Pirelli sarà la prima azienda all'interno dell'industria del pneumatico a raggiungere la neutralità carbonica al 2030 e il net zero al 2040. Significa il 90% di abbattimento di emissioni di CO2 combinando i nostri impianti e tutta la nostra catena di fornitura entro il 2040.